Siamo ad Alberobello, così bella da sembrare finta e invece è tutto vero. Alberobello è uno degli orgogli della nostra regione, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, con i suoi trulli conosciuti in tutto il mondo per la loro caratteristica e che sono dei simboli senza confini di tempo e di spazio, perché costruzioni a forma di trullo sono presenti in tutta l'area del Mediterraneo, dalla Sicilia alla Sardegna, dall'Egitto alla Turchia alla Grecia alla Dalmazia. Uno spettacolo mozzafiato, sempre, in ogni stagione. Da Alberobello, ancora più magica, con le sue luci natalizie, vi facciamo i nostri auguri per le feste. Buon Natale da tutta Puglia eccellente!